su quanto accaduto. Dopo ieri invece leggendo l'articolo abbiamo tirato fuori un po' di domandine c'è venuto fuori che è stato stratonato un po' di volte, ha buttato a terra, ha preso quel braccio però diceva che lui era della parte dei bambini più privilegiati che non gli ha guidato più di tanto. Ieri le parole al microfono di questo papà, oggi quelle della mamma di una bambina che frequenta l'asilo al centro della vicenda giudiziaria e lo scorso anno aveva come maestre proprio le tre coinvolte nell'inchiesta per maltrattamenti. La signora che non vuole apparire in video ci ha scritto una lunga mail all'indirizzo di Sveglia Trieste nostra figlia ha iniziato a frequentare quella scuola nell'ottobre 2017, scrive e a novembre aveva cambiato già atteggiamento non voleva più andare a scuola perché diceva che aveva paura di una maestra perché picchiava lei e i compagni raccontando qualche episodio andando a cercare di capire cosa succedeva, si legge nel testo della mamma ma la bambina è stata presa per bugiarda quando era a scuola si faceva i bisogni addosso, la trovavo sporca tutti i giorni urlava di notte, un giorno disse che era stata costretta a mangiare e così l'abbiamo ritirata poi la confessione, quando ha smesso di frequentare mi disse che un giorno stava poco bene la maestra la mise in punizione seduta da sola in un angolo senza poter giocare con nessuno adesso andremo a fondo in questa storia, aggiunge ancora nella mail e denuncieremo anche noi quella volta sembravamo gli unici ad avere problemi e invece apprendo adesso che era tutto vero ripeto andremo a fondo perché per noi i colpevoli non sono solo le maestre ma tutti quelli che hanno visto e non hanno fatto nulla infine l'ultima precisazione la classe era attaccata all'ufficio del direttore, sottolinea la madre quindi non capiamo come non abbia potuto vedere o sentire nulla